Oggi seguiremo una partita della seconda fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Cosa possiamo aspettarci Stefano? Un grande spettacolo! Ormai questi tornei sono parte integrante del precampionato delle squadre che li affrontano per mettere alla prova i loro schemi di gioco e per allargare la propria base di tifosi. Il tutto ovviamente porta a incontri sempre più spumeggianti. Tutto è pronto dunque per la sfida tra West Ham e Lazio. Questa è la formazione iniziale del West Ham. Hanno deciso di utilizzare un modulo 4-5-1 ma con buone qualità offensive. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Occhio a traversone! Occhio alla botta! Questi sono i tiri che certamente non possono far male al portiere. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Buone cross! Ottimo tiki-taka! Cataldi Palla in out sarà corner Il tecnico ha deciso un po' sorpresa di mandare in capo a questo giocatore oggi. E non me l'aspettavo, Piero. Prova la botta! E c'è il gol della Lazio! Il gol del capitano. Che trascinatore! Grande potenza! La palla si è insaccata proprio sotto la traversa. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Hanno aperto! Le barcature con questo gol. 1-0 O'Shea Hanno esagerato qui col tiki-taka E hanno perso il pallone. La palla si è inserita. Palla in area. Sicuro l'intervento del portiere. Tackle bellissimo. Preciso, efficace. Sarà fallo laterale. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. O'Shea Prova a sorprenderlo E il tiro finisce sulla traversa. Fabio Sturgeon Griezmann Parte il cross. Grande intervento. Sventa il pericolo. Ci aspetta il calcio d'angolo. Allontanano il pericolo. Cerca i compagni. Attenzione, la palla è lì. Fuori da raffallo laterale. Barclay Occhio al cross. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Ecco il tiro. Il portiere in presa sicura. O'Shea O'Shea Perdono il possesso del pallone. Cataldi Intervento rubido ma corretto. Occhio al suo movimento. C'è il traversone. Fuori gioco che c'era. Come ci mostrano le immagini. Anche se di poco. Ottima la chiamata dell'assistente qui. Ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa. Spazzano via il pallone. João Mario Ha intercettato palla con un ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare. Fabio Sturgeon A spazio prova Un tiro davvero inguardabile questo. Partiglia bene il pallone. O'Shea Saranno due minuti di recupero. Contrasto rubido vigoroso. João Mario Grande intervento per liberare l'area. Bravo a intercettare questo pallone. Non era facile. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano. Sì. 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 Occhio perché ci sarà una sostituzione. Inizia la ripresa di questo match nella seconda fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Sarà sicuramente uno spettacolo, Pierre. Assa. C'è un'ottima rete di passaggio. Non si fa sotterno. Parte il tiro. Il portiere con sicurezza. La mette in mezzo. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Intervento pulito sulla palla. Primo tempo incoraggiante il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo. Gran tiro. Parata straordinaria. Come un gol. Palla fuori. Sarà corner. L'uscita del portiere di pugno. Tutto fermo. Tutto fermo. C'è fuori gioco. Se ripartirà con un fallo laterale. C'è il laccio sulla fascia. L'allenatore deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo. È necessario cambiare qualcosa. È riuscita a interrompere la trama con un buon intervento. Ballone che torna in possesso degli avversari. Ottima lettura difensiva. Prova la botta. Nulla da fare. Ballone che esce. Ottimo il tiki-taka qui. Ha spazio per tirare. Una parata incredibile. Ottimo intervento senza frongioli. Ancora un calcio d'angolo. Colpisce di testa. Frey. Riescono a recuperare il possesso. Palla che finisce in out. Sicuro l'intervento del portiere. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. È un brutto fallo. Vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Tutto è pronto per il cambio. Si attende solo il segnale dell'arbitro. Vediamo se questa sostituzione riuscirà a portare nuove energie e nuove idee. Palla che esce. Sarà fallo laterale. Buono il cross. La chiude molto bene. Crossa. Refinge il primo tiro. Grande intervento per liberare l'area. Rimessa con le mani da buona posizione. È riuscito a superare il proprio marcatore. Non si può far saltare così facilmente. Il Liverpool ha dunque ufficializzato sul nuovo acquisto mettendo fine a una serie di voci che si erano rincorse nelle ultime settimane. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale. Tutto può ancora succedere. Portiere che blocca senza problemi. Il portiere dice di no. Occhio al calcio d'angolo per chiudere definitivamente la partita. Questi sono i corner battuti finora dalle due squadre. Parata straordinaria. Come un gol. Ci saranno tre minuti di recupero, Pierre. C'è il traversone. Ottimo intervento del difensore. Arriva dunque il fisco dell'arbitro. Gara che finisce 1-0. Arbitro che chiude. Prova la botta. E c'è il gol della Lazio. Il gol. Lo che stava dai quasi. Corante. Questa attrazione. Questa attrazione.